Nella nostra provincia finalmente è tornata a nidificare la celebre cicogna bianca. Cominciò a Fucecchio nel 2005. Da allora sono stati monitorati in tutta la regione dieci nidi, di cui uno a Porcari e l'altro a Antopascio. Fucecchio, una zona espaludosa di vecchia data, costituisce così un habitat molto favorevole a questi volatili e c'è anche una storia umana di cui tener conto. E non solo perché la cicogna ha sempre ricordato la fecondità agli umani dei secoli scorsi, la storia è umana oggi per altri versi. Infatti la cicogna quando nidifica sui tralicci elettrici nel periodo invernale ha bisogno di una piattaforma artificiale adeguata e vicina per poter trasferire il nido dove il pulcino poi farà le sue prime prove di volo. Siamo in zone molto protette perché l'area di sopravvivenza per questi volatili è vasta anche in condizioni di artificialità. Ma la meraviglia è un'altra, è l'iniziazione al volo. Il pulcino venne lasciato solo nel suo nido e da un nido vicino, una piattaforma vicina, i genitori molto lentamente insegnano l'infinità dei movimenti necessari al volo. È una lezione intensa e partecipata e molto armonica, qualcosa da imparare anche per noi umani.